Salve e benvenuti alla nostra piccola lezione di anatomia. Oggi affrontiamo il tema dell'articolazione scapolo-omerale. L'articolazione scapolo-omerale è l'articolazione più mobile del corpo umano, qui vediamo diverse parti osse. Ovviamente si utilizzano anche il termine latino articulatio umero scapularis o connessione tra la scapula e l'umerus. L'osso della scapola è la parte più importante dell'articolazione scapolo-omerale. Si trova sul lato dorsale del thorax ed è un osso piatto che presenta diverse sporgenze di cui ora parleremo in modo particolareggiato. La seconda parte dell'articolazione scapolo-omerale è l'osso superiore del braccio, l'umerus, che con la testa dell'omero si inserisce nella glena dell'osso della scapola. Per prima cosa diamo uno sguardo alla scapola. La scapola è formata da più cavità e sporgenze che consentono l'orientamento anatomico. Vediamo qui sulla zona dorsale della scapola una decisa sporgenza dell'osso, la spina scapule, che dalla parte anteriore termina nella cromion. Sopra e sotto la spina scapule si trovano due cavità dove hanno origine i muscoli. Una sopra la spina scapule, la cosiddetta fossa suvraspinata, posizionata quindi sulla spina, e l'altra sotto la spina scapula, la fossa infraspinata. Ruotiamo tutto verso il lato ventrale e anche qui vediamo una cavità che in questo caso è rivolta anche verso le costole, la cosiddetta fossa subscapularis. All'interno di questa fossa risiedono potenti muscoli che raggiungono l'osso omerale. Davanti, confinante con l'osso della scapola, vediamo la clavicula, la clavicula collegata con l'osso della scapola tramite una piccola articolazione. Anche qui notiamo diversi legamenti che stabilizzano il collegamento tra la clavicula e l'osso della scapola. Osservando l'osso omerale, l'umerus, possiamo distinguere anche qui alcune importanti strutture anatomiche. Naturalmente per primi la testa dell'omero e la diafisi omerale nella zona della testa dell'omero. Quindi decise sporgenze dell'osso. Qui il cosiddetto tuberculum maius, cioè una grande gobba dell'osso che funge da innesto per la muscolatura. E qui, sul lato ventrale, il tuberculum minus, una piccola gobba dell'osso. Tra le due tubercola scorre un sulcus, cioè un solco, il sulcus intertubercularis. E, rappresentati qui da questo piccolo cordoncino, i tendini della lunga testa del bicipite, che in questo sulcus intertubercularis scorre attraverso l'articolazione scapolo-omerale. Osservando l'articolazione scapolo-omerale, si nota che ci sono relativamente poche strutture di collegamento, a differenza delle altre articolazioni. Si tratta pertanto di un'articolazione prevalentemente orientata al muscolo. Ora daremo uno sguardo ad ogni singolo muscolo. Si parla qui della cuffia dei rotatori. Perché cuffia? Perché questi muscoli si chiudono intorno alla testa dell'omero come una cuffia. Questi muscoli sono nello specifico il musculus teres minor, che dalla scapula raggiunge il tuberculum maius dell'osso omerale, poi sotto la spina scapula il musculus infraspinatus, un muscolo piatto a forma triangolare che inserendosi nel tuberculum maius converge con le sue fibre. E sopra la spina scapula è quindi il musculus supraspinatus, che passa sotto l'acromion e raggiunge di nuovo il tuberculum maius, l'umerus. Sul lato ventrale si trova un quarto muscolo, che fa parte della cuffia dei rotatori, il musculus sub scapularis, che si inserisce nel tuberculum minus dell'omerus. Insieme, questi quattro muscoli raggiungono la testa dell'omero e possono quindi muovere l'umerus e stabilizzare l'articolazione della spalla. Se escludiamo il musculus sub scapularis, scopriamo, mio Dio, che l'osso omerale non ha una vera e propria glenoide, bensì questo osso si appoggia su una piccolissima fossa che la scapula gli mette a disposizione, la cosiddetta cavitas glenoidale, che in realtà non occupa che una piccolissima superficie della testa dell'omero rivestita di cartilagine. Questa superficie si allunga leggermente, lo si può vedere tramite queste strutture grigie, attraverso un pezzo di fibrocartilagine che avvolge questa glenoide e quindi amplia la glena, il cosiddetto labrum glenoidale. L'articolazione scapolo-omerale è quindi un'articolazione della struttura piuttosto complessa, soprattutto perché deve consentire numerosi movimenti in modo saldo. Perciò notiamo che l'articolazione della spalla può essere mossa in moltissime direzioni, e ha naturalmente la possibilità di, per così dire, spostare con sé anche il braccio in molte direzioni. Se si osserva anche la zona laterale, si scorge che le parti molli tra le strutture osse hanno relativamente poco spazio. E a livello clinico ciò porta in determinate condizioni ad una cosiddetta sindrome da impingement, cioè le parti molli si bloccano tra le ossa, causando dolore nell'articolazione scapolo-omerale. Certo, abbiamo solo sorvolato sull'argomento spalla. Grazie a tutti! Grazie a tutti!